Un apporzionato parliamo di disintossicazione. Qual è questa macchina che riesce a disintossicare? Acqua Detox è un macchinario che utilizza la ionoforesi e attraverso un'elettrolipolisi manda un'elettrolisi nell'acqua che è leggermente salata in modo che rilascia ioni positivi e ioni negativi. Il corpo noi siamo carenti di un negativo, abbiamo un positivo in eccesso. Per il meccanismo che gli ioni negativi e positivi si attraggono nel momento in cui nell'acqua c'è questo ione che attrae il positivo viene rilasciato il carico di tossine dal nostro corpo. Questo beneficia gli organi che a livello energetico si ricaricano in quanto perdendo le tossine recuperano energia. In base al colore dell'acqua capiamo di quale organo stiamo parlando e quale organo stiamo depurando di più. Faccio un esempio, se l'acqua diventa marrone il carico tossinico è del fegato maggiormente. Se l'acqua diventa arancione il carico è delle giunture. Chiaramente se l'acqua diventa verde è più della bile e della cistifellea. È un trattamento non invasivo quindi piace molto alle clienti anche per quello. Infatti in una vaschetta di acqua mettiamo i piedi a bagno e si usano i piedi perché nella volta a plantare ci sono circa 2000 pori. Si mettono a bagno i piedi e attraverso gli ioni come dicevo prima vengono rilasciate le tossine. Vengono rilasciati anche i metalli pesanti che è importantissimo in quanto è proprio da lì che il fegato, la pelle che è il maggior organo e montore del nostro corpo ha il sovraccarico di tossine. Abbiamo parlato di disintossicazione e adesso parliamo di dimagrimento. Quali percorsi da seguire Oriana? Allora abbiamo delle credenze nel nostro centro. Una persona stressata o intossicata non può avere un buon dimagrimento. Si è visto che lo stress è causa di mangiare troppo e di ingrassare. Stessa cosa le tossine. Quindi da una parte depuriamo come abbiamo visto e con l'aiuto anche di altri supporti perché consigliamo tisane ai nostri clienti, consigliamo un piano alimentare e soprattutto dei macchinari specifici e dei massaggi perché dopo aver depurato un corpo bisogna drenarlo. Quindi facciamo il massaggio linfodrenante metodo Vodder e linfodrenaggio francese perché sono due metodi diversi in base alla tipologia della persona. Noi conosciamo 12 tecniche di massaggio. Le diverse tecniche di massaggio ci permettono di fare massaggi specifici per le diverse persone. Siamo tutti diversi. Di conseguenza anche linfodrenaggio tanto decantato deve essere specifico per ogni persona. Quindi una persona attiva avrà bisogno di un linfodrenaggio francese in quanto un massaggio più attivo. Invece una persona più calma e tranquilla ha bisogno di un linfodrenaggio Vodder. Poi il rilassamento come dicevo prima, quindi massaggi rilassanti, il massaggio Venox per esempio è un massaggio specifico per la circolazione sanguigna e per la circolazione linfatica, sanguigno-venosa e linfatica. Ed è un massaggio molto rilassante. Il massaggio Venox lavora anche nelle viscere e con lo sblocco del diaframma. Attraverso lo sblocco del diaframma andiamo, come dicevo prima, a rilassare la persona nella sua totalità, che è importantissimo come base di ogni trattamento. Poi le varie tecniche di massaggio che conosciamo sono il connettivale, il sanguigno, lo IAM che lavora sui meridiani, L'Energetic Stone Massage che lavora sull'energia, l'Emotional Massage che lavora sulle emozioni, quindi attraverso l'ausilio di fiori di Bach lavoriamo sul posizionamento dei fiori sui diversi chakra e andiamo a lavorare sul disequilibrio di questi chakra. Un chakra aperto o un chakra chiuso fa la differenza in quanto al risultato finale del trattamento. Poi il massaggio tradizionale, il massaggio per lo sportivo. Per quanto riguarda invece i massaggi orientali? Allora, i massaggi orientali in questo momento molto di moda siamo andati a impararli in Thailandia. Quindi abbiamo fatto la riflessologia plantare dove loro sono specializzati e il massaggio thailandese fatto a tappeto, quindi è un vero massaggio in una cabina specializzata perché anche la location è importante in questo caso. I thailandesi ci tengono molto a questa cosa, quindi la cabina è creata apposta per questo tipo di massaggio con le candeli, le essenze, tutto deve essere orientale per entrare in quella filosofia lì. Il massaggio dura circa un'ora e quindici minuti, anche un'ora e mezza in base alle problematiche del cliente ed è la chicca del nostro centro ovviamente. Allora, abbiamo fatto la disintossicazione, abbiamo fatto il massaggio, adesso parliamo invece dei macchinari che ci aiutano a percorrere questo percorso in toto e a ritornare a un peso forma. Quali macchinari esistono nel suo centro estetico? Allora, macchinari ce ne sono diversi. Per il dimagrimento in particolare abbiamo lo stretching pulse, è una vera mesoterapia come quelle che fanno il medico ma senza aghi, quindi non è invasiva. C'è un macchinario che ha delle punte in metallo che però non fanno male ovviamente perché sono stondate apposta per fare penetrare il prodotto in profondità. Il prodotto arriva a livello dermico, quindi passa allo strato epidermico e arriva nel sottocute. Quindi ogni prodotto che noi mettiamo, dimagrimento o rassodamento, è efficace perché arriva dove ne abbiamo bisogno. Poi c'è Oxifat. Oxifat è il nostro macchinario di punto ovviamente. Abbiamo avuto le tre versioni dell'Oxifat in quanto macchinario in continua evoluzione che abbiamo preso per tre volte ovviamente. È un'elettrostimolazione con raggi infrarossi. L'elettrostimolazione immaginate tra virgolette il TESMED, solo che i macchinari che usano di casa, lavorano sulla muscolatura superficiale e pellicciaia, mentre noi lavoriamo sulla muscolatura profonda. Posizioniamo gli elettrodi. Negli elettrodi c'è un raggio infrarosso che manda sensazioni all'ipotalamo, una ghiandolina che abbiamo posta alle basi del cervello, di rilasciare i grassi. Quindi mentre una persona fa un intenso lavoro fisico, quindi un intenso sforzo fisico, il muscolo essendo condizionato dall'infrarosso consuma il grasso, cioè distrugge la fibra bianca distrutta dal muscolo e dallo sforzo, va a prendersi la fibra rossa e lavorando consuma il grasso. Ovviamente insieme a un lavoro di dimagrimento fa anche un lavoro di rassodamento. Poi c'è il body mix. Il body mix è un macchinario che ha il laser per la cellulite, perché ovviamente le persone possono avere il dimagrimento in quanto adipe, ma possono avere in quanto donne un eccesso di cellulite, quindi un inizio di edema che poi si trasforma in micro e macro nodulo e quindi in cellulite. Il laser lavora specificatamente nella cellulite e poi attraverso lo stesso macchinario ha una vacuum terapia che prende il tessuto e lo sposta, lo riposiziona praticamente. Ovviamente fa un grande lavoro di svuotamento, perché le persone che hanno cellulite hanno sempre del gonfiore, quindi dell'edema, che va drenato e quindi sgonfiati, tra virgolette. Avete avuto dei grandi risultati da questo percorso, vero Oriana? Abbiamo tutte le fotografie delle clienti, questo è un po' il nostro vanto. Abbiamo sempre, facciamo sempre, nelle schede tecniche, leghiamo la foto del prima e del dopo risultato, ovviamente prima e del dopo trattamento, ovviamente a uso del centro, quindi solo chi viene nel centro può vedere le foto con la firma ovviamente del cliente. dove si possono vedere i propri risultati del prima e del dopo, in quanto sappiamo che anche 2, 3, 5, ma siamo arrivati ai 15 centimetri, ovviamente sono casi importanti, degni di nota. Qual è l'obiettivo di Oriana Porzonato e del suo team? Quando ho scelto il nome del centro ho proprio pensato a questo. Il nostro obiettivo è sicuramente la bellezza delle clienti, ma assolutamente seguita dal loro benessere, perché non c'è bellezza se non c'è benessere. Sì, sì, non c'è... Grazie.